L'effetto che crea questo cavo d'acciaio è questo. Si creerebbe un effetto mortale. Questa è l'esatta dimensione del cavo che è stato teso da un lato all'altro di Viale Toscana l'altra notte da quei ragazzi che si stavano annoiando, ha detto a loro. Prendo questo e dopo vi faccio vedere qualcosa. Allora ragazzi, questo è il cavo che ho comprato prima al brico e l'ho riposizionato all'altezza 140 cm da terra come rilevato dai carabinieri. L'effetto che crea questo cavo d'acciaio è questo. Si creerebbe un effetto mortale, effetto gigliottino, perché il cavo d'acciaio scorrerebbe sul mio petto e andrebbe a tranciarmi la testa. Perché ho fatto tutto questo? Perché ci tenevo a mostrarvi concretamente quello che sarebbe potuto accadere. Alcuni hanno definito questa cosa una bravata dovuta alla noia. Boh, io la noia in tutto questo non ce la vedo perché ultimamente si spara per strada per noia, si vandalizza per noia, si ruba per noia, bande di ragazzi che picchiano altri ragazzi o anziani o donne per strada per noia e tanto altro. Però, che dire, mancava il cavo tirato per noia. Ho capito che a volte la noia uccide, ma a questo giro potevo uccidere veramente.